Stiamo andando all'Atlantis, The Royal, ma prima di tutto si va a far benza perché consuma come una portaerei, anche se non me ne sono mai accorto, ma sicuramente è così In Italia me ne accorgerò qua, è praticamente gratis Guardate che spettacolo, oltre alle fontane, al Dubai Mall, anche qua c'è lo spettacolo che fa, non lo so pure Siamo qui al Royal, arrivati, sto aspettando il mio amico e socio Dobbiamo discutere sui prossimi immobili da acquisire perché investo anche in immobili Appuntamento veloce, veloce, dimora, poi torno a casa, ci alleniamo in palestra, compreso il cameraman e poi andiamo a prendere le ragazze, andiamo a fare un aperitivo e poi vediamo dopo Siamo in palestra, oggi petto e bicicletta Nella prossima vita però un gym docker che dicono di essere natural, ma non sono natural manco per il cazzo Pagnetto, post palestra, rilassante, poi doccia e andiamo a prendere le ragazze Andiamo al Delana, forse andiamo al Topgolf, ci aggiorniamo dopo Siamo arrivati al Delana, per me uno dei posti più belli in assoluto di Dubai a Business Bay con vista su tutta downtown che a breve vi faccio vedere Stiamo facendo un aperitivo, sono con Nico e due amiche Ciao ragazzi, vi faccio vedere la vista Tutta downtown alle mie spalle, spettacolare, purtroppo dal video non rende Siamo arrivati al Topgolf, adesso ci arriva il cibo, poi dopo giochiamo Comunque volevo farvi vedere, oggi ho depositato 1000 su un conto e ho quasi raddoppiato e ho fatto 839 con un conto da 1000 Ovviamente non provateci a casa, però questi sono gli stessi segnali che ho dato nel nostro gruppo privato Per entrare c'è il link di Whatsapp che vi aspetto dentro Vi faccio vedere l'interno del nostro gruppo privato Oggi, allora, siamo iniziati così con un bel gold buy Take profit uno, un altro gold buy e via Poi un altro gold buy chiuso in negativo Successivamente poi recuperato alla stragrande da un gold sell Si è conclusa così poi la giornata Questo è quello che succede dentro al nostro gruppo Molto easy, molto facile, ci vogliono due minuti al giorno E per imparare non ci vogliono neanche 30 secondi È molto molto intuitivo e semplice, a prova di bambino È arrivato il cibo, adesso finalmente mangiamo e poi giochiamo Non ci vogliono neanche 30 secondi Se vuoi pagare la via, sono le cose. Mia, mia, mia. Buonasera. Wow! Ma vedi domani a... Stort? Stort?